Ma sono figli di battaglie che i socialisti portano avanti da anni. Per una giustizia giusta il garantismo è di sinistra, nasce per difendere gli indifesi dai soprussi dei più forti. Valeva 50 anni fa, vale ancora oggi, abbiamo bisogno di distinguere le funzioni di giudicante da quelle dell'inquirente, dobbiamo evitare che i magistrati dal giorno all'altro si cambiano veste e diventino dei politici, magari utilizzando le indagini che sono state fatte, bisogna limitare l'utilizzo della carcerazione preventiva perché è l'estrema razza, come dice il nostro codice di procedura penale, dunque solo in determinati casi, dunque insomma c'è parecchio da riformare, dobbiamo riuscire a farlo senza lo spettro di Berlusconi, con un dibattito libero perché finalmente anche l'Italia diventa matura.